bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono il re della risata cancelletto 1 farò la recensione di un film del 1989 intruder terrore senza volto jennifer lavora come cassiera in un supermercato una sera proprio mentre sta per chiudere il negozio riceve la visita inaspettata del suo ex ragazzo appena uscito di prigione è pronto a causare nuovi problemi il mio voto a questo film è 10 è un film dell'orrore l'attore è Sam Raimi il regista è Scott Spiegel la durata del film è un'ora e 28 minuti saluto Samu Brina Cita Aliciotola Ilaria Mariuccia Magellan Markkolf Festival Ale Amico di Ale Gianluca Domenico Leo Tassoni Peter Tim Michi Robby Tony Cante Michele Tregigliani Favij Picchiatore Bulluni Isuralli Il Trio Medusa Giulia Alessio Uga The Rock Orto Ivan Drago e Telefine 122 Mr Bike TV Daniele Nicarota il canale PNC ma soprattutto tu che stai guardando questo video guardate questo video lasciate dei commenti lasciate dei like iscrivetevi al canale arrivederci al prossimo video spero che questo video vi sia piaciuto